Vivo qui con una serenità ed una calma di cui da tempo non avevo alcun sentore. La mia consuetudine di vedere e di prendere le cose come sono, il mio costante esercizio di lasciarmi guidare dal lume dei miei occhi, la mia completa rinunzia ad ogni pretensione mi servono ancora a meraviglia e mi rendono, nel mio segreto, supremamente felice. Non passa giorno senza qualche nuovo oggetto degno di essere notato. Ogni giorno sono immagini singolari, vive, grandiose, un complesso al quale si può pensare e del quale si può sognare da gran tempo, ma che per forza d'immaginazione non si raggiunge mai. Quest'oggi sono stato alla piramide di Cestio e la sera al Palatino, tra le rovine dei palazzi imperiali che sorgono come pareti di rocce. Di tutto questo non è certo possibile rendere un'impressione. Fatto è che qui non c'è nulla di piccolo, benché anche qui si trovi talvolta qualche cosa di riprovevole e di cattivo gusto, ma anche questo ha la sua parte nella grandiosità del tutto. Se poi rientro in me stesso, come si fa sempre tanto volentieri, scopro in me un sentimento che mi dà una gioia infinita e che appena oso esprimere. Colui che qui si guarda intorno seriamente e da occhi per vedere deve diventare serio e deve farsi della serietà un'idea più chiara che non abbia mai avuto prima. Lo spirito ne riceve uno slancio poderoso e arriva ad un grado di serietà senza pedanteria e a quella compostezza che è gioia. A me sembra, perlomeno, di non avere mai apprezzato così equamente come adesso le cose in questo mondo e mi rallegro con me stesso delle felice conseguenze che mi accompagneranno per tutta la vita. Lasciatemi dunque suggerermiere dove lo trovo. L'ordine verrà più tardi. Io non sono qui per godere a modo mio. Io voglio darmi anima e corpo alle cose grandi istruirmi e deducarmi prima che il quarantesimo anno mi raggiunga.